Oggi abbiamo fatto il resoconto di tutto il percorso di Vaia, dai primi momenti della gestione dell'emergenza a questa fase, nella gestione del Bostrico, ai corsi di formazione e credo che qui ci sia l'esempio del sistema Trentino, di come ha gestito le prime fasi dell'emergenza, dove ricordiamo ci sono stati purtroppo anche due morti, di come ha gestito la ricostruzione, la ricostruzione sostanzialmente c'è stata e di come sta gestendo oggi l'emergenza del Bostrico. Questi corsi di formazione sono utili a chi lavora in questo settore, ricordiamo ci sono stati tanti incidenti, purtroppo alcuni anche mortali in questo settore nel post Vaia e quindi sono investimenti che la provincia deve continuare a fare.